Tipo Zero è un Pokémon veramente molto strano che mi ha fatto riflettere tantissimo fin da quando è stato annunciato nella giornata di ieri. Io mi sono sempre chiesto cosa sia questo Pokémon, da cosa è formato, chi l'ha creato e perché. Un sacco di domanda a cui cercheremo di dare una risposta, e quest'oggi in questo video teoria. Partiamo dalle cose che già sappiamo ragazzi. Questo Pokémon è stato formato mettendo insieme più parti di vari Pokémon in modo tale che potesse essere invincibile e adatto ad ogni situazione. Poi sappiamo che ha una maschera che limita la sua potenza e la sua agilità, infatti questa maschera è molto pesante e il Pokémon è così forte perché deve proteggere i Pokémon dalle creature delle leggende e della mitologia. Noi per adesso sappiamo solamente queste cose ragazzi, che sono state dette dal sito ufficiale Pokémon. Ma proviamo ad osservarlo meglio. Quali Pokémon formano questa creatura? Perché io mi sono fatto questa domanda ragazzi. Quali parti di Pokémon sono state prese per formare questa mitica creatura, magari semileggendare, a chi lo sa potrebbe essere un Pokémon semileggendario. Allora, l'animale che corrisponde a questo Pokémon è la Chimera, ovvero una creatura mitologica formata da varie parti di vari animali per formare una creatura insomma superiore, quasi divina. Infatti l'alchimia ragazzi si dice appunto questo, che la Chimera è formata da vari animali, per così dire inferiori, con l'obiettivo di creare una creatura divina superiore, molto più potente di questi animali. E tipo 0 è proprio questo ragazzi, un insieme di vari Pokémon, magari inferiori, per cercare di creare una creatura divina superiore rispetto ad altre. E questo ragazzi è proprio il punto focale di questa teoria. Allora, partiamo da un aspetto molto importante di questo Pokémon. Guardate cosa c'è al collo sotto la maschera. C'è quella specie di cerchio che forma una croce con quattro punte e quattro gemme. È molto simile allo stesso dettaglio che ha Arceas, sulla pancia, sul dorso. Quella croce era stata utilizzata anche da Arceas, mi pare in un film, pure nell'anime, se non mi ricordo bene. Comunque sia, era stata utilizzata da Cyrus per controllare Dialg e Palti. Quindi praticamente controllava i Pokémon con quella specie di cerchio di Arceas. Però ragazzi, io non penso che quella cosa sia stata fatta per controllare tipo 0, in quanto c'è già la maschera per controllarlo. Ma ragazzi, io penso che quella cosa ci fa capire che qualcuno ha cercato di creare un altro Arceas, un altro dio, per, insomma, servisse il suo potere per diventare invincibile. Questa è la mia teoria che ho, insomma, sviluppato e ho trovato anche delle conferme in giro per internet. Qualcuno quindi si è servito di tutti questi Pokémon per cercare di creare una divinità, un altro Arceas. Qualcuno ha cercato di emulare Arceas. Ma pensiamo un po' adesso all'alchimia. Uno degli obiettivi principali degli alchimisti è creare la pietra filosofale per ottenere il potere degli dei. Magari il potere che, tra virgolette, è di Arceas. E quindi hanno cercato di emulare, di creare un altro Arceas per ottenere il suo potere. Ragazzi, come si crea però una pietra filosofale? Allora, in alchimia la pietra filosofale si ottiene mettendo insieme quattro cose. Quattro cose che abbiamo già sentito parlare, di cui abbiamo già parlato in precedenza, perché sono state molto, molto discusse negli scorsi mesi. Allora, la pietra filosofale si crea mettendo insieme sale, zolfo e mercurio con al cento il piombo. Vi ricordano qualcosa però questi quattro elementi? Ebbene sì, ragazzi, sono proprio loro, i 3 starter più Rockraft. Gli stessi Pokémon che avevano un segreto in comune ed è stato detto che sarebbero stati molto importanti, molto più delle scorse generazioni, in Pokémon Sole e Pokémon Luna. Quindi io penso che questi Pokémon, ovvero gli starter e Rockraft, siano serviti a qualcuno per creare questa creatura, questa chimera, questa creatura divina, cercando di replicare Arceas per ottenere il potere divino. Perciò adesso osserviamo bene, ragazzi, tipo Zero. Osserviamolo veramente bene nel dettaglio. La coda sembrerebbe essere quella di un Pokémon tipo Acqua, quindi secondo me la coda corrisponde all'evoluzione finale di Popplio. Mentre le zampe sembrano ebbero essere quelle di un Pokémon di tipo Drago, un Pokémon peristorico tipo Aerodactyl. Bene, se la mia teoria è esatta, queste saranno le zampe dell'evoluzione finale di Rowlet. Mentre la testa, o meglio, il volto che era chiuso dalla maschera, potrebbe essere quello simile ad un gatto o ad una tigre. Quindi quello potrebbe essere una parte dell'evoluzione finale di Litten. Mentre per quanto riguarda il corpo, chi ci manca ancora? Ci manca Rockruff, ovvero il piombo. Quindi magari quel corpo, quella parte del corpo, potrebbe essere presa dall'evoluzione finale, oppure da una delle evoluzioni finale di Rockruff. Quindi ragazzi, questa potrebbe essere una pietra filosofale creata da vari Pokémon. Quindi, come per creare la pietra filosofale ci vogliono diversi elementi, quindi il piombo, il sale, lo zolfo e il mercurio. Per creare questo Pokémon abbiamo messo insieme vari elementi, ovvero Rowlet, Litten, Poppio e Rockruff. Gli stessi Pokémon per cui è stato annunciato un ruolo importante in questi giochi. Ma ora prendiamoci un'altra domanda molto molto importante, ovvero chi ha creato questo Pokémon? Chi ha voluto cercare di replicare il potere di Arceus per i suoi scopi? Beh ragazzi, io vi dirò una cosa molto importante. Avete presente la fondazione Aether? Quelle persone che hanno la loro sede nell'isola artificiale di Alola, che al momento sembrano molto pacifiche, che sembrano proteggere i Pokémon? Beh, notate una cosa. Nella descrizione viene detto che il team, la fondazione Aether, compie ricerche sui Pokémon, sulle ultracreature, ma anche, insomma, sui Pokémon. Fa degli studi. E poi viene detto che questa fondazione serve per raccogliere i Pokémon feriti, o che hanno subito violenze in tutta la regione, e portarli nella loro isola. E se fosse solo una copertura? Questi stanno cercando di raccogliere il maggior numero di Pokémon possibili per portarli alla loro fondazione, e di nascosto fanno degli esperimenti, e Tipo Zero è uno di questi esperimenti, ovvero hanno cercato di mettere insieme vari Pokémon che hanno raccolto per formare questa copia di Alcas per ottenere il suo potere. Hanno fallito però, perché questo ragazzi non è un leggendario, questo è un Pokémon comune, infatti è un esperimento fallito. E magari, ragazzi, Iridio, che sembra molto simile alla direttrice di questa fondazione, faceva parte della fondazione Eder, e poi è fuggito perché è indignato da tutti questi esperimenti sui Pokémon, e si è portato dietro Tipo Zero, perché era comunque sia triste per la fine che ha fatto questo Pokémon. Quindi, Iridio era inizialmente parte della fondazione Eder, poi, vedendo gli esperimenti che facevano in questa fondazione, è fuggito con il Tipo Zero e si è unito al Team Skull. Ora bisognerà vedere quale sarà il ruolo di Team Skull. Saranno semplici gangster, oppure avranno qualche ruolo nascosto che noi al momento non sappiamo ancora? Magari saranno più buoni del previsto? E secondo me, ragazzi, io vi dico, il Team Eder nasconde qualcosa, perché sono troppo sospetti, secondo me sono troppo buoni al momento, non possono essere così buoni, c'è qualcosa sotto. Questi esperimenti, di cui parla il sito ufficiale, secondo me hanno qualcosa sotto, e qualcosa corrisponde appunto a Tipo Zero. Inoltre, notare bene la parola Team Eder, fondazione Eder. Eder deriva dal latino e significa etere. Etere è la quinta essenza dopo terra, fuoco, aria e acqua. Ragazzi, l'etere, secondo gli alchimisti, è la parte principale, fondamentale, della pietra filosofale. Quindi, ragazzi, tutto sembra tornare. Vi faccio un breve riassunto. Il Team Eder ha voluto mettere insieme più Pokémon che ha raccolto nella regione, per formare questa creatura, per replicare Arceas, per replicare il suo potere, per ottenere il potere divino. Una sorta di pietra filosofale. Proprio come gli alchimisti, cercavano di creare la pietra filosofale, per ottenere il potere degli dei. Nello stesso modo, loro hanno creato questo Pokémon per cercare, però hanno fallito, di ottenere il potere degli dei. Quindi di Arceas. Quindi, ragazzi, tutto sembra essere molto complicato, ma sembra essere veramente molto bello. La trama di Sulla Luna è molto complicata. Non sappiamo ancora tutto. Infatti, se la fondazione Eder sarà malvagia, avrà qualcosa di nascosto, qualcosa di leggermente sinistro, allora il Team Skull... Cosa sarà il Team Skull? Saranno delle... In realtà solo dei gangster, oppure qualcuno che in realtà si opporrà, ma al momento non ce lo fanno capire, alla fondazione che in realtà ci nasconde qualcosa, fa degli esperimenti sui Pokémon? Ragazzi, non lo so. Io veramente sono entusiasta di questa teoria. Sono veramente colpito da questa teoria, ragazzi. L'ho sviluppata anche seguendo varie cose su internet, sull'alchimia. Quindi, ragazzi, io voglio sapere veramente la vostra opinione. Inoltre, veramente, un bel mi piace per supportarmi in questa teoria e una bella iscrizione al canale. Ragazzi, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Un saluto da Rochette e ovviamente... Bye bye!